Ciao ragazzi, sono Giovanni Crea della Gimar, siamo qui a Milazzo dal campionato italiano GT AMSCHI, qui la presenza dei miei motori è importante, ci sono quasi 20 motori, il motore è questo qui, è il nuovo Speed di casa Gimar, è un motore 9 luci con albero 14 mm, ha un nuovo carter, un nuovo disegno interno e anche uno dei pochi ad avere il carter trattato nero, quindi un trattamento di indurimento che dà longevità al motore e anche le prestazioni abbiamo visto che sono aumentate. Mi premeva dire anche che è uno dei pochi motori da quello che vede in giro sviluppato appositamente per il rally dal mio staff, in quanto abbiamo visto che utilizzare i motori da pista nel rally non è più una cosa secondo me molto appropriata, infatti sono dei motori, questi qua che hanno molto più spunto rispetto ai motori da pista e hanno un accoppiamento un po' più duro proprio perché devono andare a tirare un peso importante che è quello del rally che è circa 3,4 kg, è un motore quindi che sta riscuotendo un buon successo, oltre al numero stiamo facendo anche delle prestazioni importanti, ho appena finito di fare il meccanico a Kevin Polimeni che ha vinto la semifinale in F1, le Super Pol 2 su 3 hanno visto protagonisti il pilota Catanzani su BMT Gimar appunto e Giuseppe D'Angelo su BMT Gimar, quindi sono contentissimo del risultato, anche i piloti mi stanno dimostrando, oltre all'affetto, mi stanno dimostrando che sono contenti del prodotto, non abbiamo avuto problemi di alcun tipo, di rotture, carburazioni strane o altro, quindi niente, questo è quanto, ci stiamo andando a preparare la finale, sicuramente aggiusteremo frizione e cambio che qui nel rally sono molto importanti, incrociamo le dita, speriamo di fare un buon piazzamento come al solito, grazie e arrivederci.